a direttore dimmi che fai dormi no sono con le spalle al muro e lo so neanche tu l'hai capito non ti ho detto niente non l'hai capito sono con le spalle delle mie è vero stiamo aspettando di vedere tutti quanti la seconda parte dell'intervista ad ai duci tu stavi là chiaro che non stai aspettando io dico in generale stiamo tutti i nostri spettatori aspettando di vedere la seconda parte ai duci michele falcicchio il compagno avranno detto qualcosa ci avranno mandato a quel paese cosa sarà successo dopo l'interessamento della polizia locale gli organizzatori qualunque cosa è successa ieri la serata iniziata con ritardo perché non voleva non voleva uscire sentiva l'avvocato esci di qua non esci di là tiro mi senti aspetta vai la tiro attento l'arco che pista il massimo di pista di pista basta alla fine l'avremo beccata e che cosa ci avrà detto ai duci che non voleva far passare questo messaggio particolare che non sappiamo quale messaggio fosse ora tino abbiamo delle novità essenziali delle novità essenziali e sono novità che arrivano dalla procura di bari avevamo detto della procura di brindisi avevamo detto di come la procura di napoli stia in qualche maniera cercando di avere un appiglio per poter partire probabilmente è stato trovato ma la procura di bari ha iscritto nel fascicolo dell'inchiesta aperta su questa situazione Antonio Francesco Franco e Francesco Reo il medico della clinica Reo che poi ha chiuso che ha operato insieme a lui Nicolas quindi il caso è quello di Nicolas croccantissimo e i due sono iscritti per truffa aggravata e lesioni colpose sul registro degli indagati sì perché la truffa rispetto al fatto che doveva essere operato per una cosa invece non è stato operato le lesioni colpose perché Nicolas ha evidenti lesioni dovute a quell'intervento e in sala operatoria c'erano sia Reo che Franco probabilmente Catalina ma in questo caso le attenzioni sono tutte su Reo e Franco bisognerà capire quali sono queste responsabilità e quali le lesioni effettivamente accertate e soprattutto c'è già una data prestabilita che è quella del 2 agosto la data in cui ci saranno le CTU la dottoressa Maselli nominata dalla procura e poi quello di parte di Nicolas Nicolas Cafagno non sappiamo ancora formalmente chi sia seppure di fatto siamo a conoscenza del nome dello specialista ma non lo diciamo perché non è stato ancora formalizzato lo ricordiamo il 2 agosto quindi tempi rapidissimi ed è emblematico il fatto che tutto sia avvenuto all'indomani praticamente della condanna di Nicolas per quello che ha fatto quando è andato da Franco per rivendicare la sua storia e rivendicare i suoi diritti e chi non l'avrebbe fatto noi lo diciamo sempre possiamo comprendere seppure non condividiamo la violenza mai otto mesi di condanna appena sospeso l'abbiamo detto ma subito dopo parte l'inchiesta con iscritti sul registro degli indagati Reo e Franco per truffa aggravata e lesioni colpose le procure si stanno muovendo i casi stanno aumentando bisognerà capire poi alla fine della fiera quale sarà la giustizia e chi otterrà la giustizia noi siamo fiduciosi nella magistratura nel lavoro dei magistrati e quindi aspettiamo pazienti quello che sarà l'esito di queste inchieste per ora è solo per ora come ha detto qualcuno tu stai stalkerizzando una famiglia e dai mo mi vuoi fare lo spoiler mi vuoi fare allora sei un vigliacco maledetto anche perché stai stalkerizzando e lei la procura sta indagando per piacere fammi restare qua con le spalle al muro vuoi rimanere là con le spalle al muro me ne vado io ciao direttore va